Paura nella notte nel Catanese a causa di due distinte scosse di terremoto che hanno messo in allarme la popolazione. La prima e più forte scossa è stata registrata dai sismografi tre minuti prima della mezzanotte nel territorio di Santa Maria di Licodia con intensità 3.3 della scala Richter. Il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione anche a Paternò, Biancavilla, Ragalna, Adrano e Belpasso. È stato localizzato ad una profondità di 6 chilometri sotto la crosta terrestre. Appena è il tempo di capire cosa stesse accadendo che una seconda scossa è stata avvertita poco distante nel comune di Ragalna, appena una decina di minuti dopo. Il sisma è stato registrato dai sismografi a mezzanotte e nove minuti a due chilometri dall'abitato e ad una profondità di soli tre chilometri. Per questo la scossa non fortissima 2.3 della scala Richter è stata comunque avvertita dalla popolazione. Non si segnalano per fortuna danni a cose o persone. Le onde sismiche infatti non sono state distruttive come invece accaduta di Ischia pochi giorni fa per un sisma di magnitudo inferiore ma molto superficiale. L'ipocentro in quel caso era stato ad appena 5 chilometri di profondità ma si sono propagate più lentamente attenuandosi nella risalita verso la superficie e distribuendosi a grandi distanze fino alla Sicilia centrale. Il servizio dell'INGV infatti, che si chiama Hai sentito il terremoto, ha ricevuto un centinaio di segnalazioni da tutta la Sicilia. Tra queste 10 da Ragusa, 9 da Siracusa, 8 da Noto, 6 da Modica, 5 da Ispica, 4 da Catania e Augusta, 3 da Enna e 2 da Agrigento e Avola.